La rivelazione stagionale in Serie B è senza ombra di dubbio la SPAL. La società emiliana sta stupendo tutti col secondo posto insieme al Verona. Nessun problema di formazione per semplici, che ha quindi passato una settimana tranquilla. Dall'altra parte un ostacolo durissimo per il Cesena in zona play-out. Affrontiamo una squadra sicuramente che ha delle qualità importanti. Il partito può fare un altro tipo di campionato, però a parte l'ultima partita mi sembra si stanno ritrovando. Mi sembra anche che Camminano fatto in Coppa Italia dica la forza di questa squadra in singole partite e quindi bisognerà affrontarla a un grande rispetto, a un grande determinazione perché noi vogliamo provare a fare la gara e possibilmente proveremo a vincere. Vedendo poi i giocatori della squadra che compongono la rosa del Cesena e dopo il campionato dell'anno passato pensavo che fosse una delle belle squadre che potesse lottare per play-off o addirittura qualcosa di più. Purtroppo per loro non hanno fermato, erano le mie aspettative, ma non solo le mie, mi sembra anche della piazza, insomma di tutti quelli che pensavano potessero fare sicuramente un campionato diverso. avevano avuto qualche problema, è stato un cambio allenatore, insomma, però ecco, vedendo nella partita singola di Dolce Sena come qualità possa battere tutti.